Ciao amici, bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme questa fantastica maglia, la terza del Manchester City per la stagione 22-23. E di chi se no, se non di... Alan! Il nuovo kit presenta un design a cerchio sfocato come tributo all'aproperaia di Manchester. Un contrasto con la classica maglia da casa celeste e la divisa da trasferta rossonera. Il Manchester City ha optato per una terza maglia verde, neon, per dare alla propria collezione di maglie una nuova brillante prospettiva di vita per la stagione. Puma l'ha lanciata con lo slogan Play Forever, poiché la maglia rende omaggio a una diversa forma di gioco associato al Manchester, la street art. Il corpo principale verde lime è contrastato con cerchi neri che sfocano ai bordi, che rendono omaggio all'aproperaia di Manchester. Il badge city è abbinato al logo del Puma, sulla parte superiore del torace, per completare il look vivace. Meravigliosa! Secondo me questa maglia è straordinaria. Nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle. È di uno dei giocatori più forti, secondo me, del panorama europeo, peraltro veramente giovanissimo e secondo me è una maglia da avere. Il costo lo vedete qui sopra, che dire, se non che è bassissimo. E peraltro il sito sta ricevendo tantissimi ordini, ma devo dire che comunque riescono a mantenere dei tempi di spedizione molto veloci. Questa è arrivata in 23 giorni. Vi ricordo che in descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un buono da 3 dollari da spendere sul sito. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Spero nel frattempo che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quello che vedete è una taglia media della versione FAN. Классo del nodo. Speriamo insieme a tutti, vi commetere la versione FAN. Ciao! Grazie a tutti.